E il tuo film preferito qual è Sergio? Quello di fare il film con Sorrentino E l'ultimo film di Sorrentino che hai visto? Allora l'ultimo film che adesso non ricordo L'ultimo film che ho visto con Sorrentino Non ricordo tanto bene Però l'ho visto E con la grande bellezza? La è, è quella Ma perché avevi voglia di farti la Ferilli? Sì Cosa le faresti Sergio? Gli spaccarei la figa E poi gli spaccarei il culo Gli spaccarei e mi farei fare un bocchino con le minne Si mettono, si mette il cazzo vicino, vicino le minne E te la fai sparare Ma è per questo che ti è piaciuto il film alla fine? Sì, è per questo pure che mi è piaciuto La vorrei violentare In termini scherzosi Ci mancherebbe Sergio, lo sappiamo Sergio Allora, allora, allora Allora, 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 allora